salve amici e amiche nell'ultimo video che vi ho proposto vi ho mostrato la close call in italiano mancata collisione causata da un jet da combattimento russo ai danni di un f16 americano nello stretto di bering il 23 settembre questo video qui mi ha fatto molto piacere leggere i vostri commenti a volte anche molto preparati di persone che mi seguono e che hanno compreso giustamente la follia e la pericolosità del gesto alcuni si sono chiesti se queste manifestazioni di stupidità possono generare crisi internazionali e se la russia sta cercando sistematicamente di provocarle in altri commenti poi ho letto frasi del tipo e non è normale volare nei corridoi di spazi aerei militari e internazionali quindi niente di grave il pilota russo ha fatto bene perché loro sono i veri top gun e altri commenti che mi hanno strappato qualche risata del tipo il pilota russo ha solo dimostrato che il su 35 è l'aereo migliore del mondo certo va bene non credo sia necessario parlare del gap tecnologico che separa la tecnologia militare russa da quella occidentale perché insomma è un poco come picchiare un uomo anziano seduto sul gabinetto mentre vorrei invece portare l'argomento di oggi sui casi di sconfinamento nello spazio aereo e nello specifico cosa hanno fatto i russi nella storia di questi sconfinamenti parlerò infatti di quella che in gergo aeronatico viene definita come letteratura degli incidenti aerei come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e a lasciare un mi piace qui sotto al video ci sono i pulsantini di youtube per sostenermi allora questa storia parte da lontano e per ovvie ragioni considererò solo i casi a partire dal dopoguerra per la precisione con l'inizio della guerra fredda il primo caso di cui parlo è l'air france f b e l i un douglas c 54 un aereo passeggeri preso a canonate da due mig 15 il 29 aprile 1952 vicino a berlino fu colpito 89 volte ferendo tre passeggeri i piloti riuscirono ad atterrare a berlino con un solo motore dei quattro dell'aeroplano perché i tre erano stati colpiti i sovietici giustificarono l'accaduto dicendo che l'aereo passeggeri aveva oltrepassato il corridoio internazionale garantito 1960 un aereo spia americano un u2 in volo in profondità sul territorio russo per fare fotografie fu abbattuto da una salva di 14 sa2 emissili terra aria dopo che i caccia intercettori sovietici non riuscirono a raggiungerlo a causa del fatto che l'u2 volava troppo alto un'altitudine troppo elevata l'incidente poi causò una crisi internazionale perché il pilota americano fu fatto prigioniero e il deterioramento ulteriore dei rapporti fra stati uniti e russia da questo episodio è stato tratto anche un film con tom hanks 1962 aeroflot flight 902 un tupolev 104 era cosiddetto volo charter diremo oggi fra kraborosk e mosca i cui rottami furono trovati nei presso di krasnoyark nessun sopravvissuto sulla carlinga fu trovato un grosso foro di entrata con segni di incendio non c'è stata mai nessuna conferma dell'accaduto ma fu chiaramente abbattuto da un sistema missilistico russo durante un'esercitazione 1978 korean airliners flight 902 in volo da parigi a seul era un boeing 707 fu intercettato da due sukhoi su 15 sovietici vicino a murmask per aver violato lo spazio aero sovietico a causa di un errore di navigazione da parte dei piloti fu tentato il contatto radio ma questi non risposero non è chiaro su quali frequenze i piloti sovietici cercarono di contattarlo ma in assenza della risposta i piloti russi lanciarono un missile a corto raggio che colpì l'aereo civile uccidendo due passeggeri i piloti poi fecero un atterraggio di emergenza su un lago ghiacciato salvando tutto il resto dei passeggeri 1981 canadair cl 44 questo aereo da trasporto coinvolto in un traffico di forniture militari fra stati uniti e iran perché signori miei l'iran era una nazione nemica della russia fino a poco tempo fa almeno prima di questa follia che oggi viene chiamata repubblica islamica questo aereo doveva sorvolare lo spazio aereo turco senza particolari problemi ma per un errore di navigazione feri finì per sorvolare l'armenia vicina che era sovietica fu così intercettato sempre da un sukoi 15 sovietico il pilota russo cercò di dirottarlo e costringerlo ad atterrare in territorio sovietico ma falliti tutti i tentativi decise di colliderlo di proposito per una tecnica infame chiamata ramming entrambi i velivoli precipitarono solo il pilota russo si salvò eiettandosi 1983 korean airlines flight 007 questo boeing 747 per un banalissimo errore di navigazione attraversando il corridoio internazionale finì per deviare la sua rotta di poco e sconfinare nello spazio aereo sovietico dove fu intercettato da un sukoi 15 il pilota russo portandosi in coda a questo grosso aereo passeggeri su cui viaggiavano 269 persone provò a convincere i suoi superiori via radio che si trattava di un qualche tipo di errore e che l'aeroplano era pieno di persone ma via radio gli comunicarono di abbatterlo e il pilota russo così lanciò due missili il primo mancò il bersaglio mentre il secondo colpì i piani di coda dell'aereo civile costringendo così il grosso boeing ha una lenta e inesorabile picchiata prima di schiantarsi nessun sopravvissuto delle 269 anime a bordo 1993 due aerei passeggeri appartenenti alla trans air georgiana furono abbattuti uno abbattuto l'altro costretto ad un atterraggio d'emergenza mentre erano in avvicinamento a sukumi dietro l'attacco c'erano i separatisti manovrati dalla russia sempre per restare sul tema 2014 malesia airlines 17 un altro aereo civile in volo fra l'olanda e la malesia fu abbattuto da un sa6 russo operato dai separatisti del donesk 283 passeggeri di cui 80 bambini e 15 membri dell'equipaggio persero la vita la postazione missilistica russa operata da tre ufficiali russi e uno ucraino fu responsabile dell'accaduto nonostante i ripetuti tentativi di insabbiamento da parte russa le accuse che l'aereo fosse stato abbattuto dall'aviazione ucraina sul caso poi è stata fatta chiarezza grazie soprattutto all'impegno internazionale delle nazioni unite la corte per i diritti umani è uno sforzo congiunto hanno prodotto delle perizie accurate ricostruzioni balistiche e sono stati individuati grazie alle registrazioni e le testimonianze i nomi dei responsabili ufficiali russi ovviamente putin ha negato qualsiasi coinvolgimento da parte russa ma di fatto dal 2014 quello spazio aereo sopra il donesk e da lì in poi è stato interdetto alle rotte commerciali ed è rimasto così da allora ora come ho detto ho trattato solo i casi di abbattimenti che hanno coinvolto la russia in violazioni dello spazio aereo direttamente e indirettamente anche se nel caso di indiretti se consideriamo tutte le forniture che i russi hanno dato a mezzo mondo a gueriglie e milizie varie fra africa e sud america la lista degli aerei civili abbattuti si allungherebbe di molto ma andiamo avanti non è l'argomento di oggi ora se dovessi parlare poi di tutte le volte che aerei militari russi hanno approcciato lo spazio aereo nato la lista sarebbe troppo lunga e non sempre documentata salvo qualche foto e testimonianze che circolano in questo articolo per esempio si parla di oltre 300 volte con un picco inverosimile negli ultimi tempi registrato sopra il mar baltico ai danni della svezia ma in generale su tutta l'europa orientale e centrale nel mare del nord nel mare del pacifico lo stretto di pering queste incursioni al contrario di quello che qualcuno ingenuamente ha detto nei commenti sono piuttosto pericolose non tanto per una violazione dello spazio internazionale in quanto gli aerei avrebbero il diritto di sorvolarlo quanto per il fatto che gli aerei militari russi vi si approcciano senza transponder attivo che comunica quota e posizione non fanno la dichiarazione di voli programmati e lineari e non comunicano soprattutto con il traffico aereo e questo rappresenta un grosso problema per la sicurezza dei voli e del traffico aereo in generale mentre sto parlando vi mostro per esempio la quantità di voli civili che ci vola sopra la testa tutti i giorni la regolamentazione del volo delle comunicazioni e dei sistemi serve proprio a questo ad evitare collisioni e migliorare la sicurezza di tutti altrimenti sarebbe il caos esiste uno sforzo internazionale per mettere d'accordo tutte le nazioni civili a far rispettare delle norme che garantiscono la sicurezza del trasporto aereo enti locali e internazionali come l'esa in europa l'icao internazionale che accumuna 193 nazioni in tutto il mondo quindi comprenderete che una nazione che non rispetta un minimo di regole per la sicurezza del volo rappresenta un problema non da poco e non è insolito vedere i classici bombardieri o meglio pattugliatori marittimi dell'era sovietica violare sistematicamente le rotte commerciali e sorvolare il mare del nord il mediterraneo il mare adriatico per esempio anche in italia abbiamo avuto la nostra bella letteratura di questi aerei prima sovietici e poi russi che arrivavano a transponder spento e in silenzio radio scusate attivando così il nostro sistema di difesa aerea e il cosiddetto scramble degli intercettori italiani dalla base più vicina quindi capirete che vedere un contatto su uno schermo radar che non risponde alle chiamate e non ha identificativo non è proprio una bella cosa specialmente almeno dopo l'11 settembre 2001 ora queste attività dei classici tupolev tu 95 come quella che ho portato all'attenzione ieri che si vede in questo video hanno a che fare anche con le attività navali come ho detto in questi giorni c'è una grossa esercitazione navale russa nel pacifico che fra l'altro sempre con queste attività nei giorni scorsi hanno letteralmente violato lo spazio aereo giapponese cioè non lo spazio internazionale però queste attività di questi vecchi bombardieri sono spesso legate alle attività sottomarine da parte russa che dove svolgono questi aerei svolgono ricognizioni radar ascolto di comunicazioni e ricerca di battelli sia in superficie che sotto la superficie quindi sempre per rispondere ai commenti no non sono aerei innocui e non sono aerei disarmati come qualcuno ha scritto ma piattaforme per la guerra elettronica e convenzionale armati di boe che ascoltano sotto il livello del mare e siluri in caso di necessità questi pattugliatori poi viaggiano spesso accompagnati da scorte come è successo in questo video e questa azione sconsiderata da parte del pilota russo la posso spiegare solo in termini di una bravata atta a provocare un rischio non necessario che ha messo in pericolo la vita di entrambi senza escludere la possibilità che si sia trattato anche di un errore da parte del pilota russo che per esempio ha voluto raggiungere in fretta la posizione dell'f16 americano senza rendersi conto di quanto lento questo fosse andando a stare in formazione con il turbo elica lì vicino questo un errore comune è piuttosto possibile giustificato dalla fretta di raggiungere qualcuno e quando sei per aria non è che come in auto puoi pigiare il pedale per frenare insomma in questi casi si parla di overshoot ma a parte questo ho già trattato in altri video la mancanza di professionalità da parte dei piloti russi che non è una considerazione mia personale ma è piuttosto un dato di fatto ed è ben documentata nel loro modus operandi nel fatto che per esempio a differenza dei piloti occidentali si fanno governare come marionette dal controllo di terra dal fatto che quando appunto si sentono liberi dal gioco di quella voce che li governa a bacchetta pensano di poter fare quello che vogliono e se vogliamo tutta la campagna aerea in ucraina di bombardamenti sulle città e sui civili dimostra quanto poco cervello mettono i piloti russi in quel cockpit insomma il volo militare non è così in realtà è una disciplina militare che permette certamente dei momenti di addestramento al combattimento manovrato e ai virtuosismi alle manovre acrobatiche ma di certo non è un gioco e non è uno scherzo in stile tom cruise il cosiddetto maranza dei cieli insomma la vita reale non è un videogioco o hollywood è così un pilota militare va visto come una sorta di pugile professionista una cintura nera di arti marziali quindi è impensabile che una persona disciplinata si metta a creare zizzania e risse in giro vediamola in questo modo quindi in genere chi fa arti marziali sono le persone più ponderate e calme che prendono le scelte più ragionate ora per concludere poi il discorso faccio una piccola appendice molto breve dato che qualcuno nei commenti ha tirato fuori questo argomento ed è a proposito del maschio alfa del cosiddetto mito del maschio alfa e che in qualche modo in russia viene perseguito e bisogna dimostrare di essere maschi alfa ora lasciate che vi dica una cosa il maschio alfa non esiste non esiste nella società umana e non esiste in natura soprattutto è tutta una diceria che si è alimentata a partire dalle prime osservazioni naturalistiche sui lupi e poi da lì ha continuato ad autoalimentarsi secondo il senso comune per cui il maschio più forte prevale e domina sugli altri non funziona così in natura il maschio dominante varia di stagione in stagione a seconda di quanta fortuna e cibo ed energie è riuscito ad accumulare quindi non è una questione genetica cioè non nasci più fortunato di altri come maschio alfa almeno non in natura ma piuttosto partecipi ad una competizione con altri e c'è uno scambio dei ruoli continuo se poi parliamo di specie intelligenti ammesso che noi ne facciamo parte la questione è molto più complessa e particolare se prendiamo per esempio elefanti e cetacei hanno società quasi sempre matriarcali quindi no mi dispiace ma niente maschi alfa invece se prendiamo i nostri vicini più parenti più vicini volevo dire se prendiamo le specie di scimmie i gorilla per esempio che sono la specie di primati un po più lontana rispetto a scimpanzè e bonobo hanno dei gruppi chiusi familiari dove il maschio è quello che mangia di più e quindi diventa più grosso il cosiddetto silverback a quel punto si compete per quel ruolo ma comunque sono società chiuse famiglie nuclei familiari mentre se prendiamo le specie di scimmie più vicine a noi come scimpanzè e bonobo le cose sono ancora più complicate e molto diverse gli scimpanzè hanno società violente generalmente che cacciano e dominano tutto l'ambiente la successione per il comando è continuamente messa in discussione quindi no anche per loro quindi non nasci geneticamente maschio alfa e quel ruolo devi conquistarlo e tenerlo a forza di alleanze e politica letteralmente nei bonobo invece che sono molto più vicini a noi rispetto ai scimpanzè che sono stati sempre discriminati a livello naturalistico per le loro abitudini perché diciamo ecco che all'inizio del diciannovesimo secolo non era proprio il massimo parlare delle attività dei bonobo diciamo che nelle società dei bonobo il maschio alfa proprio non esiste perché sono società matriarcali e sono molto promiscue nel senso molto meno violente dei scimpanzè infatti risolvono gli attriti sociali e i conflitti con il piacere ora tornando quindi ai lupi da dove è partito il mito del maschio alfa che purtroppo pervade ormai la nostra società le cose dobbiamo dirlo non funzionano proprio così per decenni si è creduto che nei branchi vicesse la regola del più forte che ci fosse competizione e che insomma tutto il resto del pacco dei lupi fosse sottomesso al maschio alfa non è così i lupi sono animali estremamente estremamente sociali e parentali il pacco è composto da un nucleo familiare niente di più composto appunto dal padre dalla madre e dalla prole che man mano che cresce contribuisce alla caccia e cresce quando un esemplare poi diventa adulto prende la sua strada si allontana dal nucleo familiare vive per un periodo da solo può eventualmente stabilire delle alleanze con altri maschi o femmine e a qual punto poi può creare il suo nucleo familiare quindi se parliamo di gerarchia all'interno della società dei lupi ci sono il padre prima la madre subito dopo e i figli in ordine di età ma questa gerarchia non è dominante o assoluta nel senso che nel momento in cui per esempio il cibo scarseggia è normale che i genitori si privino del cibo per darlo ai più piccoli a quel punto insomma la gerarchia viene invertita quindi queste cure parentali fra l'altro così simili a quelle umane hanno permesso di avvicinarci a loro uomini e lupi oltre ovviamente a abitudini al fatto che abbiamo cacciato negli stessi territori si è convissuto nella stessa zona e abitudini di caccia simili di conseguenza è avvenuta la domesticazione proprio per queste somiglianze per questo motivo insomma oggi i nostri cani che vivono con noi ci vedono esattamente come una famiglia né più né meno quindi niente maschio alfa mi dispiace insomma se qualche trasmissione televisiva tipo uomini e donne o grande fratello ha proposto per anni gente lampadata palestrata e con la sindrome dello scarabocchio beh sappiate che quelli non sono di certo maschi alfa non credo proprio stessa cosa vale per discorsi legati alla leadership e il comando e in generale il successo sociale insomma se qualcuno crede che una dittatura sia una buona cosa perché una nazione è governata dal cosiddetto maschio alfa no sta semplicemente tentando di legittimare un criminale e nient'altro come vale per tutte le specie intelligenti sul nostro pianeta la società umana si è evoluta grazie alla cultura la collaborazione e il fatto di prendersi cura dei più deboli quindi chiusa la parentesi super quark colgo fra l'altro l'occasione per salutare con grande affetto willy di zoo sparkle che seguo sempre con piacere e con cui sogno fra l'altro di fare un video un giorno insieme a proposito dell'evoluzione del volo con questo vi saluto cari amici e come sempre un abbraccio alla prossima